Allora abbiamo pensato a questo evento perché insieme, avendo già le scure di danza al country sport, abbiamo deciso di fare un'unione di tutti gli stili della danza che esistono, dalla classico al cubano, senza discriminazione di nessuna disciplina. Ci siamo incontrati per caso, ci abbiamo creduto e abbiamo dato via a questo evento che speriamo che sia una cosa bella per la nostra città. Ci sono due ospiti dal profilo internazionale, José Perez famosissimo perché ballerino di amici, Rafael Hernández, ricordiamo che ci saranno lezioni, incontri e anche un'audizione importante. Sì, soprattutto con il maestro José Perez, ma l'incontro si svolge in otto ore nella giornata, si faranno tre ore di mattina e le lezioni si vengono spalmate in tre sale. Il pomeriggio dalle due perché ci sarà anche una pausa pranzo, ci saranno altre cinque ore sempre in tre sale, quindi l'allievo farà otto ore con 24 discipline disponibili. Quindi una vasta scelta dal cubano può avvicinarsi, non tanto per esempio i miei allievi al classico, ma alle discipline che fa la maestra Guendalina, come per esempio il dance hall, che è molto simile al nostro reggaeton. Quindi questo ha consentito di creare veramente un gemellaggio, perché poi ritengo che la danza unisce la cultura, giusto? Assolutamente sì. Allora tutti il 15 dicembre al country, ricordando che la danza è? Per me, penso anche per il maestro e per tutte le persone che collaborano con me, quindi Rosaria Carifano, Valeria Lanzara, la danza per noi è vita, è passione, è amore. Quando siamo in sala noi mostriamo tutto ciò che abbiamo acquisito dai nostri maestri e cerchiamo di poi darlo, di trasferirlo alle nostre allieve. Senza la danza non si può vivere, per quanto mi riguarda.